In questo tutorial vediamo come risolvere equazioni di secondo grado. Partiamo da questo esempio. La prima cosa che dobbiamo fare è svolgere questa moltiplicazione e questa moltiplicazione. Ora a primo membro sommo i termini simili e vado a scrivere 2x quadro meno 3x meno 2 meno 2 meno 9 ottengo meno 11. Porto queste due quantità a sinistra scrivendo meno 9 più 9x uguale 0. Sommo ora meno 3x con 9x ed ottengo 2x quadro più 6x e meno 11 meno 9 ottengo meno 20 uguale 0. Osservo ora che posso dividere tutti e tre i termini per 2 e allora scriverò fratto 2 fratto 2 fratto 2. In questo modo semplifico 2 con 2 ed avrò x quadro, 6 diviso 2 ottengo 3, x ed infine meno 20 diviso 2 ottengo meno 10 uguale 0. Ho ottenuto così un'equazione di secondo grado completa e per determinare le soluzioni applicherò la formula risolutiva. E vado a scrivere x 1 2, ossia x prima soluzione, seconda soluzione, è uguale a meno b, ossia l'opposto di 3 e quindi scriverò meno 3 più o meno radice quadrata di b alla seconda e 3 alla seconda è pari a 9, meno 4ac, 1 per meno 10 è pari a meno 10, per meno 4 e scrivo più 40, tutto quanto fratto 2a. a, ossia il coefficiente di x quadro, è uguale a 1 e allora scrivo 2. 9 più 40 ottengo 49 e la radice di 49 è pari a 7 e allora scrivo meno 3 più o meno 7 fratto 2. Ora separo le due soluzioni. Una volta scrivo meno 3 meno 7 fratto 2 ed un'altra volta scrivo meno 3 più 7 fratto 2. Nel primo caso ho meno 3 meno 7 che è pari a meno 10, diviso 2 ed ottengo meno 5. Nel secondo caso meno 3 più 7 è pari a 4, diviso 2 ed ottengo 2. Risolviamo questa equazione. La prima cosa che dobbiamo fare è svolgere questa moltiplicazione e questa moltiplicazione. Sommo i termini simili a primo membro e a secondo membro. Ed ora mi rendo conto che posso semplificare 5x con 5x. Porto ora meno x quadro a sinistra, ottenendo 3x quadro meno 3 uguale a 0. Ho così un'equazione pura. Per risolverla porto il meno 3 a destra ed avrò 3x quadro uguale 3. Divido ora tutte e due membri per 3. In questo modo semplifico il coefficiente della x quadro e a destra 3 diviso 3 è pari a 1 e quindi avrò x alla seconda uguale 1. Estraggo ora la radice quadrata a tutte e due membri mettendo un più o meno di fronte 1 ed avrò x uguale più o meno 1. E queste sono le soluzioni di questa equazione. Risolviamo quest'altro esercizio. Svolgo innanzitutto questa differenza di quadrati. Sommo meno 9 con 3 e riscrivo in forma canonica ed avrò x quadro meno 5x meno 6 uguale a 0. Ottengo un'equazione di secondo grado completa e allora applico la formula risolutiva. e vado a scrivere x1,2 uguale meno b, ossia meno meno 5 e scrivo 5, più o meno radice quadrata di b alla seconda, meno 5 alla seconda è pari a 25, meno 4ac. 1 per meno 6 è pari a meno 6 per meno 4 ed ottengo più 24, tutto quanto fratto 2a. a vale 1 e allora qui scrivo 2. 25 più 24 è uguale a 49 e radice di 49 è pari a 7 e allora scriverò 5 più o meno 7 fratto 2. Separo ora le soluzioni e vado a scrivere 5 più 7 fratto 2 e 5 meno 7 fratto 2. 5 più 7 è uguale a 12, diviso 2 ed ottengo 6 e qui 5 meno 7 è pari a meno 2 e meno 2 diviso 2 ottengo meno 1 e allora le soluzioni di questa equazione sono 6 e meno 1. Svolgiamo quest'altro esempio ed eseguo immediatamente questa moltiplicazione. Semplifico ora 4 con meno 4 e poi sommo x con meno 8x ed avrò 2x quadro meno 7x uguale 0. Ottengo così un'equazione di secondo grado spuria e per risolverla metto in evidenza una x e scrivo x che moltiplica 2x meno 7 uguale 0. Ora ugualio a 0 prima la x e poi 2x meno 7 ed avrò x uguale 0 e 2x meno 7 uguale a 0 da cui avrò 2x uguale 7. Divido poi tutte e due membri per 2 e vado a semplificare ed avrò come soluzione x uguale 7 mezzi e allora le soluzioni di questa equazione sono 0 e 7 mezzi. In questo esempio eseguo immediatamente la moltiplicazione ed avrò x alla seconda più 11x più 18 uguale 0. Ottengo un'equazione di secondo grado completa e allora applico la formula risolutiva e vado a scrivere meno b, ossia meno 11 più o meno radice quadrata di b alla seconda, 11 alla seconda e pari a 121 e poi meno 4ac. 1 per 18 ottengo 18 e 18 per meno 4 ottengo meno 72, tutto quanto fratto 2a. Il coefficiente della x quadro è pari a 1 e allora scrivo fratto 2. 121 meno 72 è uguale a 49 e la radice di 49 è 7 e allora scriverò meno 11 più o meno 7 fratto 2. Separo ora le soluzioni e vado a scrivere meno 11 meno 7 fratto 2 e meno 11 più 7 fratto 2. Meno 11 più 7 ottengo meno 18 diviso 2 ed ottengo meno 9. Meno 11 più 7 è pari a meno 4 diviso 2 ed ottengo meno 2 e allora meno 9 e meno 2 sono le soluzioni di questa equazione. In questo esempio osservo che posso dividere tutti e due i membri per 3. In questa maniera posso semplificare 3 con 3 e 3 con 3. A primo membro, eseguendo la moltiplicazione, mi resta x meno x quadro. A secondo membro avrò x quadro meno 3. Porto ora x quadro meno 3 a sinistra e sommo poi l'x quadro ottenendo meno 2x quadro più x più 3 uguale 0. Moltiplico ora tutti e due i membri per meno 1. In questa maniera ho il coefficiente di x quadro positivo ed avrò 2x quadro meno x meno 3 uguale 0. Ottengo un'equazione di secondo grado completa e allora per determinare le soluzioni applico la formula risolutiva e vado a scrivere meno b, ossia il coefficiente della x che è pari a meno 1. Quindi meno meno 1 e scrivo 1 più o meno radice di b alla seconda. Meno 1 alla seconda è pari a 1. Meno 4 a c. 2 per meno 3 uguale a meno 6. Meno 6 per meno 4 e scrivo più 24. Tutto quanto fratto 2a. a vale 2. moltiplicando per 2 si ottiene 4. 1 più 24 ottengo 25 e la radice di 25 è 5. E scriverò 1 più o meno 5 fratto 4. Separo ora le soluzioni. 1 più 5 fratto 4 ed 1 meno 5 fratto 4. 1 più 5 è uguale a 6 ed avrò allora 6 quarti. Semplificando si ottiene 3 mezzi. Qui invece 1 meno 5 è uguale a meno 4. Meno 4 diviso 4 ottengo meno 1. E allora 3 mezzi e meno 1 sono le soluzioni di questa equazione. In questo esercizio, come prima cosa, eseguo questa moltiplicazione. Ed ora eseguo il minimo comune multiplo. Moltiplico tutte e due i membri per 6. In questo modo semplifico il denominatore. Ed ora sommo 6x con x. Riscrivendo in maniera ordinata avrò x quadro più 7x. Ottengo così un'equazione di secondo grado completa che vada a risolvere. E scrivo x 1 2 uguale meno b, ossia l'opposto di 7. E quindi scrivo meno 7 più o meno radice quadrata di b alla seconda. 7 per 7 ed ottengo 49. meno 4ac. 1 per 12 è pari a 12. 12 per meno 4 ed ottengo meno 48. Tutto quanto fratto 2a. Scrivo fratto 2 perché a è pari a 1. 49 meno 48. Ottengo 1. E la radice di 1 è 1. E allora scriverò meno 7 più o meno 1 fratto 2. Ottengo due soluzioni che sono la prima meno 7 meno 1 fratto meno 2 e la seconda meno 7 più 1 fratto 2. Meno 7 meno 1 è pari a meno 8. Meno 8 diviso 2 ed ottengo meno 4. Meno 7 più 1 ottengo meno 6 e meno 6 diviso 2 ottengo meno 3. E allora meno 4 e meno 3 sono le soluzioni di questa equazione. In questo esempio la prima cosa che vado a fare è il minimo comune multiplo. Moltiplico ora tutte e due i membri per 4. In questo modo semplifico i denominatori. Porto ora meno 4x a sinistra ed avrò 2x quadro. Meno 4x portato a sinistra diventa 4x più x ed avrò più 5x. Ed infine meno 1 meno 2 ottengo meno 3 uguale 0. Ottengo un'equazione di secondo grado completa e allora applico la formula risolutiva. x 1 2 uguale meno b e quindi devo scrivere meno 5 più o meno radice quadrata di b alla seconda. 5 per 5 ed ottengo 25. Meno 4 a c. 2 per meno 3 ottengo meno 6. Meno 6 per meno 4 ed ottengo più 24. fratto 2a. Visto che a vale 2 moltiplicato per 2 ottengo 4. 25 più 24 ottengo 49. La radice di 49 è pari a 7 e allora avrò meno 5 più o meno 7 tutto quanto fratto 4. ottengo ora due soluzioni che sono la prima meno 5 meno 7 fratto 4 e la seconda meno 5 più 7 fratto 4. Meno 5 meno 7 è pari a meno 12. Diviso 4 ottengo meno 3. E meno 5 più 7 è pari a 2 e 2 diviso 4 ottengo un mezzo. In questo esempio la prima cosa che vado a fare è il minimo comune multiplo. Moltiplico poi tutte e due i membri per 2. In questo modo semplifico i denominatori. Ed ora porto questa quantità a sinistra e questa quantità a destra avendo meno x più 6 al quadrato uguale più 2. Moltiplico ora tutte e due i membri per meno 1 ed avrò x più 6 al quadrato uguale meno 2. Ora per risolvere questo esercizio non c'è bisogno di svolgere il quadrato di binomio ma sarà sufficiente estrarre la radice quadrata di tutte e due i membri mettendo qui di fronte un più o meno. Mi rendo conto però che a secondo membro ho radice di una quantità negativa che non si può fare e questo mi fa capire che l'equazione risulta impossibile. Allo stesso risultato potevo arrivarci direttamente guardando il testo iniziale. Se avessi estratto la radice quadrata di tutte e due i membri qui avrei ottenuto radice di meno 1 che non si può fare e quindi avrei potuto concludere direttamente che l'equazione era impossibile. Vediamo quest'ultimo esempio. La prima cosa che faccio è il minimo comune multiplo. Moltiplico ora tutte e due i membri per 9. In questo modo semplifico i denominatori. Svolgo ora questo quadrato di binomio. Ed ora eseguo questa moltiplicazione. Osservo ora che ho 3 a sinistra e 3 a destra che posso semplificare tra di loro. Sommo poi 12x quadro con meno x quadro ottenendo 11x quadro più 12x uguale 0. Ottengo un'equazione di secondo grado spuria. Posso mettere in evidenza una x ottenendo x che moltiplica 11x più 12 uguale 0. Ora uguali a 0 il primo fattore e il secondo fattore ed avrò x uguale 0 e 11x più 12 uguale 0. La prima equazione è già risolta. Risolvo la seconda portando il 12 a destra ed avrò 11x uguale meno 12. Divido ora tutte e due i membri per 11. In questo modo posso semplificare il coefficiente della x. E quindi come soluzione avrò x uguale meno 12 undicesimi. E allora le soluzioni di questa equazione sono 0 e meno 12 undicesimi. E con questo termino il tutorial su come poter risolvere equazioni di secondo grado.